3 libri che hanno completamente migliorato la mia salute Ciao, sono Marco e benvenuto nel mio canale Oggi ti parlerò di 3 fantastici libri che ho letto e che hanno migliorato drasticamente la mia salute Il primo libro è stato questo Il tuo corpo imparà l'acqua Questo bellissimo libro scritto da Fereidon Fatmanghendi È un casino anche pronunciarlo È questo medico israeliano che si è ritrovato chiuso in carcere E per curare i detenuti non aveva altro che acqua Quindi lui tramite somministrazione abbondante di acqua Ha scoperto che l'acqua poteva curare le malattie O perlomeno che l'assenza di acqua è una delle principali cause delle malattie Anche di quelle moderne Leggendo questo libro ho imparato il come, il perché avere acqua Ma soprattutto la fisiologia che c'è dietro Da quando ho cominciato a integrare molta più acqua rispetto a prima Prima normalmente bevo il classico un litro e mezzo, due litri al giorno come normalmente consigliano Da quando ho cominciato ad integrare tre litri e mezzo, quattro litri di acqua al giorno Ovviamente gradualmente Ho notato dei miglioramenti spaventosi Prima cosa, mal di testa, sparito Io soffro tantissimo di micrania Micrania, sparita Seconda cosa Non avevo più ridinzione idrica Perché normalmente il sale viene trattenuto Cioè il sale trattene l'acqua nel corpo perché c'è poca acqua Quando abbiamo abbondante acqua Non facciamo ridinzione idrica Quindi non gonfiamo È tutto il contrario E seconda cosa Molto più importante Il benessere proprio mentale Molto più attivo Molto più snello a livello di idee E' un libro che consiglio veramente a tanti di comprare perché è veramente veramente fantastico Secondo libro è di Arnold Eret Questo è il sistema di collegione della dieta senza muco L'intestino è il nostro secondo cervello E' molto importante L'intestino più è sano più abbiamo un sistema immunitario forte Il sistema immunitario che ci protegge dai virus e dalle malattie Questo libro è molto molto complicato In senso che è ricco di contenuti Non ci sono spazi vuoti Non ci sono testi scritti per contornare il racconto È la sua storia Le sue ricerche Il come mai è arrivato a capire determinate cose E più che altro ci sono gli studi che lui ha fatto E tutte le tipologie di diete Di digiuni Che ti aiutano a sgonfiare con la pancia Aiutare a snellire la digestione Sia dello stomaco che l'assimilazione dell'intestino Dei nutrienti È un libro veramente che io consiglio a tutti quanti Perché ti fa capire e ti apre una visione totalmente diversa Da quello che è il parametro normale che normalmente troviamo Il terzo libro è di Giuseppe Cocca È l'intestino intelligente Questo libro ho comprato dopo che ho letto Quest'altro di Aldo Neret Perché questo è un ulteriore ampliamento Un upgrade Più aggiornato ai giorni nostri Che ti fa capire le varie tipologie di alimenti Da mangiare Quelli che fanno male Quelli che fanno bene al nostro intestino E più che altro Il come mangiare Masticare tanto Di cui fare qualsiasi cosa che mettiamo in bocca Non ingerire roba intera E soprattutto Bere dopo 20-25 minuti Che abbiamo mangiato Non bere mentre mangiamo Perché se no Diciamo che l'intestino Più che altro La pancia Lo stomaco Fa molto più fatica a digerire E tante tante altre nozioni Su questo libro ci ho fatto un estratto Che troverai nel mio canale Ti metterò il link qui sotto L'estratto con le tabelle Quindi se vorrai Utilizzarle Per migliorare La salute dei tuoi intestini Del tuo corpo Troverai il link qua sotto Io mi auguro che Questi tre libri Tu li possa prendere Che tu li possa leggere Più in là ci farò anche gli estratti Sarà un po' più complicato per me farli Perché sono veramente ricchi di Nozioni Di informazioni E più che altro Tenderei a fare Dei adiolibri veramente lunghi Quindi ora vedrò di organizzarmi E farò le estratti Dei adiolibri Anche di questi due libri qua Però ti consiglio ovviamente Di fare ricerche Di essere curioso o curiosa Di capire Che segnarti dal tuo corpo E di migliorarti Sempre sempre più Sia fisicamente Ma anche mentalmente La cosa fondamentale è questa Crescere sempre L'1% al giorno Ogni giorno Ti invito a iscriverti al mio canale E ti invito A cliccare sulla campanella Per rimanere sempre Aggiornata a giornata Su tutti i video che farò E più che altro Ti invito a scrivere Nei commenti qua sotto Se anche te Magari hai trovato Di libri particolari Che ti ha aiutato Nella crescita Che ti ha aiutato nella vita Sono curioso Magari li potrei comprare E farci Le sette due libri Scrivi nei commenti qua sotto In più ringrazio Tutti gli iscritti al canale E vi ringrazio ancora una volta Per il vostro tempo Il tempo è prezioso Il tempo bisogna utilizzarlo E investirlo Per noi stessi Ti ringrazio ancora Per la visualizzazione Di questo video E ci vediamo Alla prossima Ciao Siamo arrivati Alla fine del video Ti invito nuovamente A iscriverti al mio canale E a cliccare sulla campanella Per rimanere sempre Aggiornato a giornata Su tutto quello Che pubblicherò Se sei curioso Curiosa E non sai ancora Cos'è Business in Box Italia Male? Ecco per te Un breve riassunto Business in Box Italia È una scuola online Dove grazie al programma Academy Imparerai tutto quello Che serve E molto altro Per creare Lanciare E rendere profittevole Qualsiasi business online Con il programma Mentor Potrai far parte Di una cerchia ristretta Di persone Che hanno migliorato La loro vita Grazie ai consigli Di 4 mentori straordinari E infine Il programma Challenge Dove per 28 giorni Ti verranno spiegate Le basi Per poter lavorare online Così da darti La possibilità Di capire Se il mondo online Può far per te Fai azione E ci vediamo Dall'altra parte Alla prossima